bella claudio un pezzetto vai Fabio grandi passi vai grande Aurelio vai vai Sandro vai Castello grandi bravi vai Matto vai così vai Fabio aiuto aiuto vanno preso permanente quindi passano le stagioni ora diciamo grande Massi cercano come come si muove 30.000 euro 30.000 euro e alle non le gale perché fai foto mandano le foto aspetta aspetta come fai anche i mini c'è il mio seguito lo rompere qua a 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